L'Unione Europea ha bocciato il piano economico finanziario di strada dei parchi. Bruxelles ha accantonato così il documento di revisione delle tariffe e gli investimenti per la messa in sicurezza, a causa del letargo del governo italiano. A causa del lungo silenzio dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, si sarebbero persi 3 miliardi e 100 milioni di euro. Questo stop mette a rischio tutti i programmi dell'azienda concessionaria delle A24 e A25. I cantieri aperti tra l'Abruzzo e il Lazio, infatti, sono legati a una serie di finanziamenti da 192 milioni della prima fase del PEF. Strada dei parchi non nasconde la sua frustrazione. Il governo italiano non ha fornito quei chiarimenti chiesti per due volte, attacca il vicepresidente Mauro Fabris. Il gestore dell'autostrada è tenuto ad effettuare solamente la manutenzione ordinaria e non quella straordinaria, e questo nonostante il business dei pedaggi sia molto redditizio. Nel 2016, infatti, le 24 società private che gestiscono le autostrade italiane hanno incassato 5,7 miliardi a fronte di 2,9 miliardi di costi di produzione. Inoltre, gli investimenti sono storicamente inferiori a quelli promessi ai governi. Tra il 2008 e il 2016 i privati hanno investito solo 15 miliardi, mentre nei piani finanziari ne sarebbero dovuti essere 21,7. Con lo stop dei fondi europei, quindi, sono sospese tutte quelle opere di messa in sicurezza, come l'adeguamento sismico dei piloni e i lavori sulle ammalorate gallerie del traforo del Gran Sasso. Eppure, durante il suo tour in Abruzzo, nei giorni scorsi, il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, aveva dichiarato che l'obiettivo fondamentale è quello di mettere a posto l'autostrada, ma la bocciatura da Bruxelles sarebbe arrivata già a gennaio. Sarà quindi il governo italiano che pagherà la messa in sicurezza? Staremo a vedere. Nel frattempo, perlomeno, il maxi aumento dei pedaggi rimane bloccato fino a ottobre 2021, e questo per andare incontro alle popolazioni terremotate. Ciononostante, il tratto gestito dal gruppo Toto rimane quello più costoso d'Italia. Da Pescara Chieti fino a Roma Est, i 197 chilometri di viaggio in automobile costano 20 euro e 50 centesimi, ovvero oltre un euro ogni 10 chilometri. Grazie.